Sindaco, anche Torrette inizia ad avere l'asfaltatura? Sì, questo è il secondo lotto di lavori, come avevamo detto li abbiamo suddivisi per poter lavorare in contemporanea. Stiamo dando priorità al mare, quindi siamo città turistica, la stagione è alle porte, quindi daremo un nuovo volto a Torrette perché asfalteremo quasi tutte le strade di Torrette per rendere un bel biglietto da visita. Erano strade che avevano bisogno di manutenzione da anni e quindi questo penso sia una bella risposta. Non dimentichiamo che qua c'è molta ricettività, quindi ci saranno restate molta gente e questo è importante. Abbineremo anche un lavoro importante di pulizia delle caditoie, anche queste non so da quanti anni non si pulivano, quindi cerchiamo di fare un lavoro completo. Anche questo è un segnale che vogliamo dare, siccome la città è estesa, la zona balneare è estesa, non guardiamo soltanto ad alcune parti ma guardiamo a tutto il territorio. Con soddisfazione adesso effettivamente si stanno vedendo tutti i risultati di un lavoro che da mesi stiamo portando avanti.